buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento che la state guardando ma comunque valida anche dal 18 al 25 dicembre 2023 utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo A gruppo B e gruppo C vi chiedo con amore durante la preghiera di protezione di chiedere alla vostra anima al vostro sentire ai vostri angeli qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi e per il vostro massimo bene ok aspettate che poi ci sono due carte girate ok prendiamo il mazzo questa era un po che non lo usavo sono tutte girate ok tanto le dobbiamo mischiare ok abbiamo tre mazzi di carte abbiamo le carte della guarigione degli angeli le carte dello scopo della vita e abbiamo le carte dell'abbondanza volevo fare una lettura un po diversa un po particolare iniziamo invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono la lettura angelica invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste l'intera coscienza micaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole d'azione di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato con amore arcangelo michele ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione fisica psichica in tutti i livelli del nostro essere dentro di noi intorno a noi affinché possa entrare solo la luce la verità la saggezza l'integrità l'amore più puro e più grande grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie coscienza micaelica è fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità ok vediamo un po cosa vogliono dirci gli angeli questa settimana ok abbiamo gruppo a amicizia amicizia ecco il gruppo b potere avete scelto il gruppo sono scelto troppe carte non va bene sono un po piccoline questa eccola qui guardate uscita la sola gruppo c no sono due ragazzi credi credi e anima gemella credi anima gemella molto interessante vediamo un po' le carte del gruppo a le carte dello scopo nella vita ecco uscita sono uscite due carte anche qui musica e carriera cambiamento nella carriera interessante anche questa gruppo b spiritual teacher tu sei un insegnante spirituale gruppo c opzioni vediamo un po' le carte dell'abbondanza cosa ci vogliono dire gli angeli rispetto all'energie dell'abbondanza rispetto alla manifestazione dei nostri sogni dei nostri obiettivi personali e dell'anima ecco gruppo a cooperazione anziché competizione per il gruppo a ecco gruppo b uscita lo stesso da sola estingui debiti importante anima meravigliosa pagare tutto ciò che c'è da pagare prima e poi concederti anche le cose che ti servono ma prima bisogna pagare i debiti la sorgente la tua fonte per il gruppo c e beh certo che sì bene bene iniziamo con la nostra lettura angelica ok c'è una forte amicizia tra te questa persona o c'è la nascita di un rapporto d'amicizia tra te e questa persona quindi assolutamente una persona di fiducia gli angeli ti stanno guidando hanno ascoltato le tue preghiere hai chiesto di avere un'amicizia pura e sincera se hai litigato con qualcuno a cui tieni in particolare questa persona è un amico vero puro e sincero quindi gli angeli ti stanno pregando di perdonare di lasciare andare l'amicizia è un valore molto importante per te per la tua anima quindi credi nell'amicizia perché veramente questa persona è una persona di fiducia allora scopo nella vita la musica la musica ti aiuta a ricollegarti con la tua anima con il tuo centro quindi magari dedica più tempo all'ascolto di musica che ti piace cantare ballare vai ad ascoltare musica in un locale vai ad un concerto suona scrivi musica perché comunque fa parte dello scopo divino della tua anima che è una componente molto importante per quanto riguarda la tua attività principale c'è proprio un cambiamento di rotta stai vivendo dei cambiamenti interiori che porteranno dei cambiamenti anche all'esterno cambiamenti nel tuo lavoro nella tua attività o upgrade miglioramenti nuove idee nuovi contratti nuove opportunità magari all'interno anche della tua stessa attività in quanto sei molto connesso e connessa col tuo scopo nella vita ok diciamo che un invito da parte degli angeli è anche quello di smettere di competere internamente la rivalità non ti appartiene non sei tu quelle energie della competizione fanno parte delle energie egoiche ricordati che l'ego non sei tu è quello che ti hanno insegnato ti hanno fatto credere di essere anima infinita lascia andare la competizione piuttosto comunione di intenti le stesse intenzioni in nome dell'amore per creare opportunità e cose grandi e meravigliose possibile anche che questa carta sia legata al discorso dell'amicizia perché magari se entrando in società in partnership con una persona e questa persona è la persona giusta con cui non devi competere ma devi devi unire le tue intenzioni in nome dell'amore ok gruppo b il tuo potere recupera il tuo potere personale spirituale ricollegati col con la forza che hai dentro con quel potere interiore che ti dà la forza di agire di parlare di di fare quelle azioni necessarie per apportare i cambiamenti positivi nella tua vita anima infinita tu sei una un leader tu sei un maestro una maestra spirituale hai grande saggezza dentro il tuo cuore abbi il coraggio di condividerla con gli altri attraverso il potere della parola attraverso la scrittura attraverso anche componendo delle delle canzoni per alcune persone hai bisogno di portare all'esterno la tua saggezza perché il mondo ha bisogno di te dal punto di vista dell'abbondanza ci sono dei blocchi perché devi dare priorità a pagare le spese che ci sono da pagare metti le intenzioni adesso per l'anno nuovo di riuscire a distinguere tutti i tuoi debiti anche quelli più piccoli affinché poi un flusso di abbondanza arriverà a te in maniera esponenziale ma per fare questo devi liberarti dai piccoli debiti anche da quei piccoli pagamenti quelle rate si puntuale nei pagamenti non disperdere la tua energia in cose inutili ok bene gruppo c anima infinita credici credi assolutamente perché questa persona è la persona giusta per te questa persona è destinata a te se tu lo con lo permetterai questa persona è una persona compatibile con te la tua anima gemella e la tua fiamma gemelle la persona che hai tanto pregato e che dio ti ha mostrato davanti a te abbi il coraggio di agire abbi il coraggio di di condividere il tuo amore per questa persona questo sentimento che hai così genuino nei suoi confronti è un sentimento puro di amore abbi il coraggio di parlare di come dire non mi viene il termine di dichiarare il tuo amore assolutamente perché questa persona ti capisce questa persona ti legge dentro ti sente e ti ha riconosciuto quindi assolutamente va in questa direzione perché questa è la direzione giusta anima infinita ok per quanto riguarda lo scopo nella vita tu hai diverse opzioni sei una grande anima sei un'anima che ha una grande saggezza e puoi scegliere se se è venuto il momento di prendere una direzione ben precisa e hai diverse scelte hai diverse opportunità ok di qualunque opzione tu sceglierai sei guidato sei guidata e sei protetta dall'arcangelo michele sei protetto dall'arcangelo michele per quanto riguarda la manifestazione dell'abbondanza ricordati che anziché rivolgerti a persone terrene tipo i genitori amici parenti perché magari hai bisogno di liquidità magari hai bisogno di un prestito ecco affidati alla sorgente la sorgente è diciamo è abbondante c'è tutto ciò che tu che tu stai chiedendo è già qui ed ora è già possibile quello che tu stai cercando ti sta chiamando quindi ti devi affidare ti devi devi fare un lavoro di manifestazione anima infinita perché tu manifesterai sia che ne sei consapevole o che non sei consapevole riuscirai a manifestare quello che vibra nella tua frequenza quindi scegli consapevolmente di vibrare in una frequenza di gioia di amore di bellezza di apertura al ricevere e grandi abbondanze arriveranno a te per la fine dell'anno o per l'inizio dell'anno nuovo bene anime infinite per questa settimana la nostra lettura è finita vorrevo anche prendere un messaggio da questo libro e chiedere agli angeli all'arcangelo michele qual è il messaggio più giusto per il maggior numero di persone possibili dichiara apertamente le tue scelte ecco questa a che vedere sia col discorso dello spiritual teacher del discorso delle opzioni per il gruppo c ma anche per il gruppo c sempre dichiarare anche l'amore no alla persona che avete incontrato no e anche per il discorso del gruppo a carriera cambiamento nella carriera o upgrade quindi assolutamente questo è valido per tutti e tre gruppi inutile nascondersi dietro mille formalità dietro inutili finzioni molto meglio esplicitarsi completamente farsi vedere senza paura dichiarare tutto alla luce del sole bellissimo e in questo modo che le soddisfazioni giungeranno prontamente bene proprio azzeccato questo messaggio anime infinite io vi saluto vi auguro una settimana meravigliosa si avvicina il natale anime meravigliose anzi questa praticamente è proprio la lettura del natale scusate cioè io non ho non ho fatto caso quindi voglio dire questa è una data importante cambiamenti tra la fine dell'anno l'inizio dell'anno nuovo scopo nella vita seguitelo dichiarate il vostro amore a questa persona perché questa persona per il 90 per cento molto probabilmente ricambia questi sentimenti quindi assolutamente l'energia è meravigliosa un'energia luminosissima io vi faccio i miei migliori auguri di un natale meraviglioso cercate di festeggiare con i vostri cari di condividere le vostre giornate con le persone che amate veramente di di dedicarvi alla meditazione alla preghiera alla centratura alla pulizia energetica fate un lavoro spirituale prezioso di perdono e di guarigione del cuore perché l'energia del natale sono delle energie di amore dell'energia di compassione di perdono ricordiamo la figura del maestro yeshua come un maestro di luce un maestro di guarigione e un maestro di perdono e di compassione sono questi i veri messaggi di amore donate incondizionatamente aiutate le persone che potete aiutare col cuore naturalmente cercate di di frequentare persone luminose come voi e lasciare andare tutto ciò che non serve il vostro massimo bene questi sono i miei migliori auguri per voi ci sentiamo dopo il 25 per la lettura di capodanno intanto io volevo anche ricordarvi di di connettervi con me se avete bisogno di fare una lettura angelica o delle sessioni di riequilibrio energetico e poi per chi è interessato a frequentare uno dei miei corsi online il prossimo corso di connessioni angeliche dove insegnerò a connettersi con gli angeli con la tua anima con la con la tua e vera essenza inizierà il 26 di gennaio 2024 e invece il prossimo corso di riequilibrio energetico online inizierà il 26 di lunedì 26 febbraio ok quindi fatemi vedere sì lunedì 26 febbraio il corso seminario in presenza dal vivo se volete imparare a connettervi con le frequenze volete imparare la connessione al sé superiore e ricevere la vostra connessione al sé superiore personale vi consiglio i quattro giorni super potenti il percorso inizierà il seminario inizierà 23 marzo sabato 23 marzo fino a martedì 26 marzo 2024 per chi si trova nelle vicinanze di san donato milanese provincia di milano o chi vuole prendere anche un aereo voglio dire come faccio io assolutamente questa è una data molto importante ci sono ancora sei o sette posti disponibili stanno finendo in fretta quindi è a numero limitato a numero chiuso se invece volete fare un percorso come dal vivo in presenza a roma inizierà il 25 sabato 25 maggio fino al martedì 28 maggio bene anime meravigliose io vi saluto ancora buone feste buon natale tanta luce tanto amore e ci sentiamo presto un bacione ciao